Allora, quindi la scorsa volta abbiamo fatto una lezione un po' faticosa, però per arrivare a capire, diciamo così, i movimenti, i destini, come si srotolano, cioè dove vanno a finire le cellule, e quello è un pochino faticoso. Però, siamo partiti da questa fate map, giusto? Quindi delle mappe dei destini, e poi li abbiamo seguiti, questi destini che si srotolavano in queste bizzarre forme tridimensionali. Però abbiamo visto appunto che, almeno a livello della blastula, l'asse dorso-ventrale, i destini dorso-ventrali, sono già specificati a due lati, giusto, dell'ovocite, poi dopo però quel citoplasma viene ereditato senza mescolarsi dalle cellule figlie, e quindi lo ritroviamo paro paro, quell'asse, nella blastula. E questo era dovuto all'ingresso dello spermatozotr, cortical rotation, di qua sarà il dorsale, di qua sarà ventral, ok. E poi qui appunto voi adesso vedete quelli che sono i destini, però lo spettacolo l'avete già visto, giusto? Lo spettacolo di teatro, dove loro ballano e poi fanno queste forme, queste coreografie bellissime. Quindi sapete più o meno, almeno abbiamo cercato di farci un'idea, no? Di come si srotola in realtà l'asse anteroposteriore, qui sotto, e poi appunto vedremo questo asse dorso-ventrale, insomma si setterà in questo modo, poi c'è il tessuto nervoso, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo capito come si srotola, almeno un pochino la meccanica. Adesso ci interessa cercare di capire un po' di meccanismi e cercare di capire anche quando queste cellule si specificano, ricordate, si determinano. Quindi questo, questo tessuto nervoso è già nervoso? O ha bisogno che gli passi sotto il trenino conga? Eeeh, quelli che fanno casino, questo lo fa un po' innervosire, questo ectoderma, ok? Fa innervosire l'ectoderma, il mesoderma che gli passa sotto. Oppure era già, diciamo, specificato e magari addirittura determinato, chi lo sa? Ok? Quando queste cellule acquisiscono il loro fenotipo, il loro destino, diventano padrone e certe del loro destino. Allora, avevamo visto nella primissima lezione, non so se vi ricordate, spero, non lo so, vediamo, qualche metodo così empirico di verificare quanto fossero forti le convinzioni della cellula, cioè se avesse delle convinzioni sul suo destino, e quanto fossero forti queste convinzioni. E quindi abbiamo visto questi esperimenti di trapianto in cui prendo una cellula, la metto da un'altra parte, se vedo che, come era, aspettate, sì, se poi aspetto un po' di sviluppo, se vedo che comincia a comportarsi come, acquisisce il fenotipo del punto in cui l'ho trapiantata, ok? Prendo un biologo, lo metto in un palazzo solo di geologi, e lui torno, e lo vedo che è un geologo, eh, niente da fare, se questo ha geologia, o, e aspettate, non era determinato, posso dire. Se fosse già specificato, però non lo so. E abbiamo visto che si può fare in effetti un esperimento in vitro, in cui prendo questa cellula, la metto in coltura, se vedo che però invece in coltura lui, c'è quindi in isolamento, in una stanza, torno e mi parla di fatto di trascrizione, allora dico, ah no, aspetta, era specificato per diventare un biologo, quindi il suo, aveva preso già una traiettoria di sviluppo, era partito in una direzione, ah, ma qualcuno l'ha fatto deviare, ok? E ha cambiato idea. In effetti voi direte, perché è stato messo in questo modo bizzarro nella figura? Perché prima vediamo se è determinato e non determinato, e dopo vediamo se è specificato? Beh, in realtà il motivo principale è proprio di tipo storico. I primi esperimenti che sono stati fatti per capire quando le cellule avevano deciso chi essere, diventavano chi erano, sono stati fatti attraverso questi esperimenti di trapianti. L'approccio di metterli, di isolarli in vitro è arrivato dopo. In effetti così le vedremo anche noi oggi, perché questi esperimenti, e guarda un po' questo cerchio, quanto somiglia a un ovocita di Xenopus, o di un tritone, o di un qualche anfibio, ma guarda un po', perché in effetti questi esperimenti, è così ancora la figura che cerca così di renderli generici, però sono stati fatti nella pratica proprio in queste specie. E sono stati fatti da un professore molto sveglio, si chiamava Hans Speyman, e lui inizia a lavorare, credo, agli inizi del Novecento, quindi all'inizio del secolo, il Novecento, stabilisce un po' il suo laboratorio, ha alcune idee furbe, insomma, fa una serie di esperimenti importanti, che io in effetti non vi ho raccontato, ma non importa. Ecco, però a un certo punto lui comincia a chiedersi proprio questo, cioè ci sono le fake map, abbiamo capito tutto, ma quando è che le cellule, o questi gruppi di tessuti, acquisiscono un destino? E quindi lui non aveva la CRE, non aveva tutta una serie di metodi di tipo genetico che avevamo visto nel corso del corso, non aveva dei reporter in teoria, direte voi, la GFP non l'aveva incontrata ancora nessuno, è vero, però lui per esempio comincia a rendersi conto che esistono dei reporter naturali. Per esempio, vedete qui, lui lavora sui tritoni e ci sono due specie di tritoni molto vicini, teniatus e cristatus, triturus teniatus e triturus cristatus, che sono uno pigmentato e l'altro no. E questo triturus teniatus è talmente pigmentato che tutte le sue cellule hanno del pigmento dentro, le riconosci proprio, si possono usare come una marcatura genetica, è un reporter espresso in modo naturale e sempre visibile. E quindi, utilizzando questo trucchetto, lui decide di provare a effettuare dei trapianti, questi trapianti, prendo un gruppo di cellule, lo metto da un'altra parte e saggio come si comportano. Chiaramente col vantaggio di poterle seguire queste cellule, perché è un reporter, un reporter genetico anche, quello è un reporter genetico, non è stato prodotto in vitro, è naturale, ma non importa, ok? Rimedi naturale, è biologico, ci piace. Allora, il suo primo esperimento è proprio legato a questo evento molto evidente di neurulazione. Lì sono delle cellule che molto precocemente, immediatamente, rivelano la loro scelta, il loro destino di aver deciso di comportarsi diversamente dalle altre cellule dell'ectoderma. Si sollevano, oh, 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 e in questo movimento di danza ti rivelano di essere diventate nervose. Eh, che cazzo! Secchi d'acqua sul mesoderma. Ok? E quindi, in effetti, il suo primo, quindi lui che cosa sa? Che effettivamente questa zona del ectoderma presuntivo, qui siamo nella blastula, vedete? Questa zona del mesoderma, appena comincia la gastrulazione, lui sa che subito sopra l'alseminuna grigio, o comunque dove si è iniziato a formare il blastoporo, poco più avanti, lì si formerà un tessuto nervoso, lì comincerà a esserci del tessuto nervoso. E allora che cosa fa? Prende questo ectoderma dorsale, che sappiamo essere destinato, quello è il suo destino, ma il suo destino è già segnato, questo ci stiamo chiedendo, d'accordo? Prende questo ectoderma e lo trapianta invece dal lato ventrale, dove ci sarebbe l'ombelico, non ce l'hanno le ombelico le lane, ma facciamo finta, ok? Nel ectoderma della pancia. Allora, a questo punto, esatto, possiamo vedere che cosa succede. A seconda di che cosa succede, faremo un'interpretazione su quella che era la determinazione, a questo punto, semplicemente quello, di quel tessuto. Era già nervoso o no? Si può... Non era determinato? Era già determinato per diventare nervoso oppure no? E dopodiché lui però fa anche lo stesso esperimento un po' dopo, nell'idea che potrebbe esserci un effetto temporale, poteva essere non anche... Perché prima o poi lo deve diventare nervoso, d'accordo? Prima o poi si nervosisce sicuro. Quindi, lui lo becca prima che passi sotto il mesoderma, ok? Prima che gli passi sotto la notocorda, oppure dopo, proprio mentre la notocorda sta passando. E potete iniziare a immaginarci solo un secondo. Io non... Adesso tra pochissimo ve lo dico. C'era anche un V-Club, ma adesso oggi sono arrivato pure in ritardo. Iniziamo a pensarci cosa potrebbe succedere e a seconda di che cosa succede e come lo interpreto. Mi piacerebbe che l'aveste fatto prima, questo ragionamento. Quindi, se diventa nervoso, vediamo qua, se questo dà origine a un tessuto nervoso, che cosa vuol dire? Che era determinato. Era già nervoso, ok? A questo punto mi aspetto di vederlo diventare nervoso ancora di più, a maggior ragione qui. D'accordo? Quindi questi due esperimenti potrebbero dare lo stesso risultato. Oppure no. In effetti, non danno lo stesso risultato. Ta-da! Non era ancora nervoso. Io uso questo modo di dirlo. Non aveva ancora preso un commitment per il tessuto neuronale. Non aveva ancora... Però si può dire anche, non era ancora nervoso. Non era ancora diventato tessuto nervoso. Non era ancora determinato. Più corretto, dai. Non era ancora determinato. Mentre, se aspetto poco, d'accordo? Un'oretta, due. Non so quanto dura sta gasolazione, ma non tanto, poco. D'accordo? Se aspetto un'oretta, invece, ah, prendo questo pezzo di epidermide e mi viene fuori un tubo neurale dall'altra parte. Lo trapianto nella pancia e là dove ci dovrebbe essere la pancia invece è alien. Esce fuori, si sollevano le pieghe. Oddio, gli vengono le pieghe della pancia, però dalla parte sbagliata, non schifo. Frankenstein! Però cosa abbiamo capito? Che questo tessuto nervoso viene indotto. Non era già nervoso. lo diventa. Ah! E questo è un primo importantissimo elemento. Quindi, non è definito alla nascita, non è predeterminato, non ci sono determinanti materni per il tessuto nervoso, ma c'è un segnale induttivo. Qualcuno glielo dice, ma qualcuno manda un segnale che lo fa innervosire. Ok? Che lo fa prendere, che lo direziona verso un commitment neuronale. Wow! E qui, vabbè, ci sono solo alcuni dettagli, qui lo potete leggere meglio, quindi, quelle conclusioni, c'è anche un pezzetto che vi consiglio di leggere. Questo è carino, molto storico, senza troppi dettagli. Ok, quindi a questo punto, il destino prospettico, cosa vuol dire? Quello che diventerà dell'ectoderma, lo chiamiamo commitment, però secondo me è carino anche che pensiate a che cosa vuol dire prospective faith. che veniva utilizzato come termine o viene ancora utilizzato in realtà. Comunque si determina durante la gasturazione. Quindi la gasturazione è un momento cruciale in cui l'ectoderma riceve dei segnali che lo fanno diventare nervoso. Ok, ma a questo punto chi è che lo fa diventare nervoso? E allora proviamo a seguire con questo stesso principio i vari tessuti per vedere se c'è qualcuno che ha le idee più chiare di tutti. C'è qualcuno che viene determinato in modo materno o paterno in questo caso, sappiamo che è paterno, o un mix tra papà e mamma. Ok, ecco appunto, e nel suo laboratorio lavorava una signora molto sveglia anche lei, Hilde Mangold, qui la vediamo col suo piccoletto, era giovanissima in realtà, faceva il dottorato. All'epoca si vede che fare il dottorato con un bambino non era una cosa così strana, non si sa perché a un certo punto questa cosa si è cambiata. Comunque, lei faceva il dottorato e stava lavorando su un progetto che non andava tanto bene, insomma le mancava poco per dottorarsi e a un certo punto Speyman era da un po' che aveva in mente di fare un esperimento ma non aveva avuto tempo lui di farlo perché era molto impegnato con gli impegni accademici eccetera eccetera. E quindi gli dice guarda, secondo me quello è un bel esperimento, può essere interessante se vuoi farlo tu, secondo me è molto promettente, ci sono buone probabilità che dia dei buoni risultati. E quindi che cosa le propone? Le propone di fare il trapianto del labbro dorsale del blastoporo. Quindi utilizzare questo stesso sistema che aveva usato per la piastra neurale a questo punto per un altro tessuto che lui aveva già l'idea che potesse invece essere determinato. Che potesse essere già determinato. Il primo, cioè là dove comincia la gastrulazione ed è poi quel tessuto che guarda un po' passa sotto al tessuto nervoso e lo induce. Allora ma vuoi vedere che è lui l'induttore di tutti quanti e lui però è diciamo così indotto già inizialmente. E in effetti aspettate che ho un video, non voglio farvi vedere il risultato di questo esperimento Angor. No, aspettate, uffa, difficilissimo non farvelo vedere. No, ancora peggio. O guardate? vabbè, vabbè, allora in effetti vi faccio vedere un attimo un video su come si fanno questi esperimenti. D'accordo? Questo si chiama, il professore si chiama De Robertis e qui riprodurrà per noi l'esperimento di Speyman. Quindi vedete che questo è l'opocita, d'accordo? Vedete, è una roba densa, molliccia, non ci puoi fare il light non è trasparente però con ago e pinzette se sei bravo, se riconosci bene, se ti orienti sfruttando dei piccoli indizi allora ecco che puoi prendere questo trapianto pezzo dorsale del blastoporo e trapiantarlo al posto di un tessuto perché chiaramente devi togliere qualche cosa dalla parte ventrale. Ok? Quindi l'abbiamo preso dalla parte dorsale dove c'era il mesoderma dorsale e l'abbiamo messo dalla parte opposta il punto più lontano che puoi immaginare dal lato ventrale dove si formerà il mesoderma ventrale lamine laterali sangue tutte quelle cose lì e a questo punto ci possiamo chiedere ma se io lo sposto lui normalmente dà la notocorda è un po' dissomiti giusto? Ma se io lo sposto darà lo stesso una notocorda dalla parte opposta o invece si fa rispecificare e comincia a produrre sangue lamine laterali e altri diciamo così derivati di mesenchima o mesoderma più ventrali e il risultato in realtà tu lo fai così aspetti qualche ora e guardate un po' lo aspettiamo ci mettiamo qui il videomic oddio santissimo cos'è questa cosa? Frankenstein Frankenstein qui una nuova larva ma cos'è? ma veramente? ma allora tutto il resto della larva cosa serve? a niente basta quel pezzetto lo metti in coltura lo fai crescere gli dai di nutrimenti allora questo esperimento è realmente sorprendente in effetti l'esperimento vale il premio Nobel è un esperimento da Nobel prenderà il premio Nobel in realtà la Mangold non ritererà il Nobel non gli verrà neanche assegnato che forse non è manco giusto manco postumo perché lei muore è una storia triste muore in un incidente domestico e quindi insomma la sua tesi di laurea è una tesi di laurea che va che prende il Nobel il piccoletto lì sa che la mamma ha vinto il Nobel questi cazzi però insomma meglio che niente cosa dobbiamo dire così è una storia triste però appunto l'esperimento invece è strepitoso l'esperimento è strepitoso in effetti vengono fuori queste due larve gemelle un nuovo asse però facciamoci attenzione è un nuovo asse dorso-ventrale ma anche antero-posteriore ok e qui vedete questo è l'esperimento rifatto non sono le due specie di tritoni e un'altra questo è sull'oxenopus ma è stato fatto su tutte le specie di tritoni e funziona funziona sempre tutte le specie di voilà ma attenzione a questo punto quello che potremmo chiederci però è da dove arrivano le cellule qual è il lineage delle cellule che hanno dato origine a questo secondo asse giusto? potrebbe essere le cellule di questo organizer che si sono non lo so completamente riorganizzate riprogrammate hanno iniziato a dare ectoderma endoderma mesoderma e quindi è proprio tutto quel pezzettino è cresciuto in una nuova larva ok potrebbero essere quelle cellule che si sono completamente riprogrammate in un nuovo animale succhiando un po' di vitello da quello che c'era oppure oppure potrebbero avere rispecificato le cellule che le circondavano cioè dove tu le hai messe come abbiamo visto nell'esperimento faccia da culo giusto? del riccio di mare quando trapiantavamo le primary mesenchymes in quel caso dal lato opposto qui le mettiamo ventrali d'accordo però il concetto è lo stesso potrebbero avere rispecificato queste cellule allora a questo punto questa domanda possiamo dare una risposta perché? perché ci sono le due specie di tritoni perché lei aveva messo in questo caso un tritone bianco vedete queste sono le cellule non pigmentate e l'aveva trapiantato invece in un tritone pigmentato e questo è il suo disegno dell'epoca come potete vedere in effetti le cellule del donatore quindi lei aveva preso l'organizer da un donatore bianco e l'aveva trapiantato su un donatore teniatus su un donatore pigmentato ok? quindi lo prende dal bianco quello albino diciamo così e lo trapianta a quello pigmentato in effetti se segui a questo punto il lineage è un marcatore genetico figata il lineage delle cellule trapiantate del donatore guardatelo cosa hanno dato origine? vedete? proviamo a orientarci allora questo è l'asse principale è tutto pigmentato qui si riconoscono le cellule che erano state trapiantate e vedete? le riconoscete? le cellule che erano state trapiantate dalle cellule che invece erano già lì? che strutture hanno dato origine? cosa vedete? che cos'è? dove sono andate a filare? vediamo se ci orientiamo un po' ci dobbiamo orientare quindi provateci cosa vi sembra? questo? giusto? sono queste le cellule bianche è vero? che cos'è quello? notocorda chi è d'accordo? chi è da notocorda? eh la notocorda certo è un cordone di cellule l'abbiamo tagliato sta sotto al tubo neurale lo vedete qua quindi notocorda un pochino di sommiti lo vedete qua qualcosina e anche la parte ventrale del tubo neurale e questo se volete è interessante ma adesso non importa però essenzialmente diciamo poi dipende anche da che pezzo sei riuscito a prendere avete visto che c'è bisogna andare con quanto sei capace di essere preciso e non andare un po' più laterale un po' più mediale insomma era fatto così e chiaramente era un po' non rozza però è impossibile essere troppo precisi è già una meraviglia questo esperimento fatto così ecco a questo punto però tada invece le altre cellule vedete sono cellule invece del ricevente questa era epidermide che doveva diventare questo scusate questo ectoderma doveva diventare epidermide ventrale doveva diventare epidermide e invece è diventato tessuto nervoso quindi è stata rispecificata riprogrammata e a questo punto scusate prendiamo l'asse principale lo vedete allora e seguiamo un po' i nostra sequenza ordinata di destini cellulari vi ricordate che ci piace tanto allora noto corda eccola qui somiti che qui si sono già divisi anche dermatomo sclerotomo mesoderma intermedio sono questi tubuli che vedete così è bucato il mesoderma intermedio qui quindi mesoderma intermedio e poi mesoderma delle lamine laterali questo mesoderma delle lamine laterali doveva continuare fino al fondo giusto quello doveva essere il loro destino rimanere sempre più ventrali e invece tadam ricominciamo la sequenza ma al contrario lamine laterali mesoderma intermedio somiti noto corda ok noto corda e poi di nuovo dall'altra parte quindi abbiamo ricominciato la sequenza ordinata il fatto che però questa sequenza ordinata da dove comincia proprio da qui dalla noto corda quindi da lì questo fa proprio pensare a un nuovo polo di segnalazione e questa sequenza ordinata cosa potrà essere mai cosa ci aspettiamo di vedere è un gradiente da qualche parte in realtà lo vedremo la prossima settimana questo gradiente però aspettatevelo perché chi poi ha fatto l'esperimento che dimostrerà che c'è un gradiente ma che ancora non vi svelo in effetti aveva in mente questo esperimento qua ok quindi a questo punto noi capiamo qual è lo stato di determinazione del margine dorsale del blastoporo il margine dorsale del blastoporo è determinato o non è determinato non so chi vota per determinato alza la mano non siete convinti sono troppo pochi aspetta ritorniamoci un attimo il margine dorsale del blastoporo il suo destino è segnato si fa rispecificare si fa rispecificare dal trapianto tu che ho visto che non alzavi no quindi è determinato sì cosa vuoi fare da grande la notocorda ok molto determinato il ragazzo capito a voglia a questo punto invece però visto che lui ha questo potere induttivo possiamo chiederci anche qual era il livello di commitment era determinato o non era determinato delle cellule che l'hanno ricevuto questo trapianto quindi il mesoderma e l'ectoderma ventrali ok quelli o comunque l'ectoderma erano specificati erano determinati no si sono fatti convincere come dei polli io voglio fare l'epidermi del tessuto nervoso devi fare certo io voglio fare il tessuto nervoso si sono fatti riprogrammare è chiaro questo è importante hanno ricevuto il segnale che li ha deragliati quindi rispetto a quello che era il loro destino hanno cambiato destino però questo come nel caso del trapianto in effetti noi possiamo vedere se le cellule che abbiamo trapiantato si fanno condizionare dall'ambiente ma possiamo anche vedere se le cellule che trapiantiamo condizionano l'ambiente e fare le stesse valutazioni rispetto ai livelli di commitment a quanto sono determinate le cellule quindi le cellule riceventi non erano determinate esiste un fattore che può farle deragliare che può fargli cambiare voilà allora questo esperimento appunto clamoroso vince il Nobel il margine dorsale del blastoporo viene chiamato the organizer su cui faranno dei film e in effetti questo evento questa sua capacità di indurre di cambiare il fenotipo degli altri quindi anzi proprio probabilmente nella situazione in vivo diciamo così senza il trapianto nella sua il trapianto si chiama eterotopico scusate il trapianto eterotopico è quando tu prendi un tessuto e lo metti in un posto diverso eterotopos eterotopico comunque anche non nel trapianto ma nella sua sede originale probabilmente questo organizer induce i tessuti induce l'asse dorsoventrale e anche quello anteroposteriore questa è la figata induce entrambi gli assi è l'organizer e questo evento di induzione viene chiamato induzione primaria oplala ok a questo punto però noi vorremmo capire come avviene questa induzione primaria chi è che induce l'organizer quali sono i meccanismi anche molecolari no che inducono l'organizer c'è qualcuno che induce l'organizer o è già indotto lui attraverso dei determinanti materno paterni allora questa domanda io potrei già darvi una risposta in effetti ci sono c'è tutto il meccanismo vi racconto lo schema e in dieci minuti ce ne andiamo tutti a mangiare gli hamburger qua fuori fanno buonissimo ma invece no e invece no io preferisco se mi permettete approfittare proprio per raccontarvi una storia di ricerca cioè di come si va alla ricerca e quanto è faticosa sta ricerca quindi una storia che secondo me è anche affascinante appassionante e che è durata 50 anni ok allora sulla specificazione in effetti qualcosa ve lo dico già allora sulla specificazione dei foglietti germinativi in realtà ve l'ho già detto questi sono già specificati ma adesso lo verifichiamo anche questo ci abbiamo già ragionato aspettate un secondo ok l'identità dorso-ventrale viene determinata alla gastrulazione e l'organizer è capace di determinarla a questo punto però potremmo chiederci se era già specificata quindi l'organizer quando io lo trapianto nella porzione ventrale prendo queste cellule e dice qualunque cosa tu stia facendo non mi interessa qualunque cosa tu volessi fare non mi interessa tu adesso sarai nervoso farò là ok però magari c'era un programma di sviluppo che era iniziato quindi l'organizer era la porzione dorsale ma io vi ho detto l'asse dorso-ventrale è già specificato siamo sicuri com'è possiamo testarlo possiamo vedere se la porzione ventrale in effetti è già specificata o era niente aveva già un'identità più ventrale quindi quello era il suo programma aveva iniziato in una direzione più di destini più ventrali ma non era ancora determinata potevamo ancora fargli cambiare idea ok allora questo approccio come abbiamo detto che lo seguiamo li isoliamo giusto io lo prendo lo metto in coltura e vedo che cosa fa ok questo approccio in effetti è stato fatto questo è stato fatto credo in realtà più avanti e qui siamo già negli anni 60 primi anni 70 fine degli anni 60 allora qui che cosa si fa però si prendono si va dal macellaio e si dice senta mi taglia un attimo questa blastula in fette mi fa un bel pezzo di animal cup che mi piace li faccio fritti e allora facciamo un bel animal cup non li dissociamo le cellule ma vengono questo potrebbe essere significativo se volete perché qualunque evento induttivo elemento induttivo che dipende dal dalla comunicazione paraclina tra le cellule quello non lo stiamo inibendo ok però insomma comunque quel pezzo di tessuto diventa epidermide ok e andiamo a vedere quest'altro pezzo di tessuto doveva diventare mesoderma ventrale quindi lì ci si trova un po' di ci sono anche le come si chiamano la linea germinale c'è il sangue lamine laterali mentre qui invece vogliamo trovare sommiti e notocorda è chiaro e questo invece c'è il tessuto vegetativo o comunque endoderma allora messi in colture in isolamento in effetti loro differenziano coerentemente con quello che era il loro destino ah ok l'epidermide guardatela lassù non diventa nervosa non si innervosisce se la lasci tranquilla la porti in campagna la metti lì lei diventa una bella pelle di rospo ah di quella che le principesse piace se la baciano tutte e poi vedono i principi ok quella viene bella uguale con le ghiame tutta una bellissima epidermide di rospo ok e idem per gli altri pezzi quindi attenzione questo è importante perché vuol dire soprattutto per l'endoderma in effetti sì qui se ci fosse stata una specificazione qui non c'è il tessuto nervoso il tessuto nervoso qualcuno lo deve indurre questo sì quindi nell'ectoderma l'asse dorsoventrale si deve fare ancora non è specificato autonomamente mentre per il mesoderma invece l'asse dorsoventrale si vede perché le porzioni dorsali danno origine a derivati dorsali e le porzioni ventrali danno origine a derivati ventrali ma quindi quando io ho preso l'organizer e l'ho messo qua allora io ho rispecificato io li ho davvero riprogrammati però intanto questa è una cosa importante l'asse dorsoventrale di destini si era già specificato non era ancora d'accordo qui non c'è ancora né sangue né mesenchima d'accordo ma è iniziato quel programma genetico che dopo un po' di divisioni migrazioni eccetera eccetera li porterà a prendere quel destino d'accordo il pendio di Waddington abbiamo avevamo già fatto deviare la biglia verso quella direzione ok stavamo andando verso mesoderma ventrale invece il quindi la biglia stava andando giù qualche cosa dell'organizer la prende la riporta su e lo fa andare dall'altra parte è chiaro? quindi eravamo ancora in quella fase in cui tu prendi una strada di sviluppo ma puoi essere riprogrammato è fichissima sta cosa va bene ok a questo punto però possiamo iniziare a chiederci chi è che specifica questa polarità questo asse dorsoventrale come viene indotto viene indotto ci sono dei determinanti materni come viene da dove salta fuori questo mesoderma dorsale questo mesoderma ventrale o comunque questo mesoderma con questa identità dorsoventrale allora è un altro signore che si chiamava Nieuwkop o Nieuwkop non lo so c'è un olandese tra voi non c'è mai uno studente olandese nessuno che mi sa dire come si pronuncia perché non lo so pronunciare comunque questo signor Nieuwkop era anche lui molto sveglio adesso vedremo un po' di esperimenti suoi che cosa nota? che effettivamente dov'è che si forma il mesoderma? quella cintura di mesoderma si forma laddove l'endoderma incrocia l'ectoderma è vero? quindi c'è la calotta animale dove c'è l'ectoderma e tra l'ectoderma e l'endoderma lì proprio in questa zona di confine un po' di qua un po' di là si forma sta cintura e a quel punto lui dice per una serie già di idee e intuizioni ma vuoi vedere che è l'endoderma ad indurre il mesoderma? e a questo punto dice beh possiamo provare si può provare a vedere questa cosa no? come le cellule si parlano non riesco a sentire che cosa si dicono ma vedo le conseguenze di che cosa si dicono d'accordo? vedo che cosa succede dopo posso farlo questo esperimento? figata e quindi lui decide di fare che cosa? prende un animal cap ok? che sappiamo già se è messo da solo in coltura diventa l'animal cap il futuro ectoderma se lo metto in coltura diventa epidermide ok? la pelle di rana ok allora questo e questa epidermide futura presuntiva cioè cellule che hanno preso quella linea differenziativa sono specificate per dare epidermide se le lascio da solo vediamo se invece così cambiano idea diventano qualcos'altro se io le metto in contatto con l'endoderma quindi prende questo animal cap e lo appiccica all'endoderma quindi toglie il mesoderma è sorpresa attenzione qui in blu vedete le cellule che aveva dell'animal cap invece in giallo le cellule endodermide sono ancora blu qui perché ci fanno vedere da dove derivano quindi ci raccontano la loro derivazione clonale ma il loro fenotipo è scritto in quelle scritte con quelle lettere è di tipo mesodermico lui trova dentro a questi embrioni che chiaramente non si sviluppano rimangono delle palle di cellule con insomma organi messi in modo disordinato ok una specie di rana picassiana però i pezzi ci sono c'è la notocorda ci sono i sommiti e da dove sono saltati fuori questi sommiti ok io prendo l'ectoderma che dovrebbe diventare solo pelle e invece mi salta fuori la bistecca ma è figata ma ha capito volete fare una grigliata non avete carne prendete un po' di endoderma un po' di ectoderma li mettete insieme voilà è salvato la festa adesso scherziamo però ok possiamo in effetti prendere l'ectoderma e trasformarlo come degli alchimisti in in mesoderma allora a questo punto però ma l'organizer allora vuoi vedere che c'è qualcuno che lo induce non c'è un programma genetico materno che dice qui faremo il mesoderma dorsale forse è l'endoderma che è già specificato e che induce il mesoderma ok quindi l'iniziale questa iniziale suddivisione dei foglietti che vi ho fatto vedere allora forse diciamo inizialmente i determinanti materni specificano l'endoderma e questo edoderma interagisce con dei messaggi con la parte di tessuto che gli sta sopra e lì induce il mesoderma ok attenzione però noi per capire da dove nasce l'organizer stiamo cercando non solo mesoderma qualunque stiamo cercando mesoderma dorsale giusto? quelle sono le nostre coordinate vogliamo arrivare a vedere quali sono i fattori che specificano che inducono mesoderma dorsale però già abbiamo fatto un passo avanti perché il mesoderma in effetti viene indotto è l'endoderma a indurre il mesoderma ma allora a questo punto visto che lui era diventato bravo a taglia e incolla pezzi di endoderma si fa un'altra domanda ma vuoi vedere che l'endoderma dorsale e qui scusate seguitemi un attimo ci siete? qui dividevamo in due no? lo spermatozoo entra di qua quindi qui abbiamo derivati ventrali qui abbiamo derivati dorsali che vuol dire che anche l'endoderma avrà una porzione no perché ogni tanto eccola qua anche l'endoderma avrà una sporzione ventrale la vedete la mia freccia no? una porzione ventrale qua e una porzione dorsale qua c'è un endoderma dorsale e un endoderma ventrale allora lui comincia a chiedersi ma vuoi vedere che l'endoderma dorsale induce mesoderma dorsale e l'endoderma ventrale induce mesoderma ventrale ok? cioè che questa induzione è regionalizzata giusto? tutto l'endoderma induce mesoderma però nella sua induzione riesce a creare un gradiente lo sappiamo ma che appunto che dà a questo mesoderma delle nuanze differenti uno sarà più dorsale l'altro più ventrale magari anche con quella sequenza ordinata di fenotipi che siamo abituati a vedere e quindi che cosa fa? scusate queste sono solo le stesse cose ma scritte con un'immagine del libro questo è il signor Mieuvcoop chi è che lo sa pronunciare nessuno peccato comunque allora il suo esperimento è questo qui e qui vi ho proprio messo le immagini dell'articolo originale del 1973 quindi i Rolling Stones cucinavano teste di capra e lui invece faceva brodini di rana allora qual è l'idea dell'esperimento? l'idea dell'esperimento è isolare l'endoderma e dividerlo in tranci di nuovo in pezzi uno dorsale uno ventrale e per quelli più invece intermedi li divide anche in destro e sinistro ne fa due pezzi se no viene troppo grosso cerca di avere dei pezzi più o meno tutti della stessa dimensione perché c'è anche un fattore quantitativo d'accordo? quindi così più o meno se quella parte centrale la divido in due più o meno sono tutti grandi uguali ok? quindi lui si fa questi quattro pezzi di endoderma però li prende dalla blastula endoderma dorsale endoderma ventrale destro e sinistro prima della gastrulazione d'accordo? nel momento in cui bisogna indurre il mesoderma o che potrebbe indursi il mesoderma allora il risultato di questo esperimento e qui vi faccio vedere solo un paio di suoi embrioni allora lui fa solo vedere disegni però insomma vengono fuori queste masse informe di cellule che però hanno acquisito dei destini d'accordo? lui non ha l'immunistochimica non può fare ancora almeno iniziava ad esserci l'immunistochimica ma lui non può usare dei marcatori specifici d'accordo? neanche l'ibridazione in situ però può vedere un po' la morfologia delle strutture per esempio questo nasone questo questo fagiolino non so cosa volete chiamarlo questo dito tirato in su quella è una notocorda e la notocorda è super evidente sono cellule turgide acquisiscono una morfologia gonfia piena d'acqua che è proprio diversa da qualunque altra cellula si distinguono bene e si organizzano anche in un tessuto quindi lui in questo che vedete questo è un in questo embrioncino e questo qui deriva dalla ricombinazione di un endoderma ventrale con un animal cap quindi ha messo dell'ectoderma e ha messo l'endoderma dorsale e lì trova un sacco di mesoderma e trova la notocorda minchia si eureka wow allora si l'endoderma dorsale sa dire qualche parola magica nell'orecchio che io non so che parole sono ma sa dire all'ectoderma diventa mesoderma dorsale invece qui di fianco vedete un altro embrioncino in cui lui invece ha ricombinato sempre l'animal cap lo stesso quindi lo stesso tessuto di partenza ma lo ha fatto parlare lo ha ricombinato insieme e invece ha dell'endoderma ventrale in quel caso cosa trova trova delle cellule germinali anche quelle sono molto semplici da vedere hanno una morfologia molto particolare e trova anche un pochino di muscolatura liscia trova del sangue e il sangue di nuovo è molto evidente le cellule del sangue sono molto evidenti e basta non c'è notocorda non ci sono strutture dorsali quindi attenzione è giusto l'endoderma dorsale induce mesoderma dorsale l'endoderma ventrale induce mesoderma ventrale dobbiamo ancora capire cosa si dicono ma abbiamo gli attori ok sappiamo dove andare a cercare l'eventuale parolina molecolare ok e attenzione però perché qui quindi chiaramente e qui vi faccio vedere la statistica vediamo un attimo la statistica ok questa è la tabellina dei suoi esperimenti lui ne ha fatti undici vedete numero di casi undici sono venuti tutti a questo punto poteva vabbè ma non importa siamo precisi ne ha fatti undici sono venuti tutti e undici è importante però no vuol dire che la sua tecnica l'aveva affinata bene e quando ha fatto l'esperimento l'esperimento è venuto bene ok quindi tutti e undici si sono sviluppati evviva a questo punto guardate la percentuale di casi in cui lui ha visto questo è quello dorsale noto corda nel 91% dei casi in cui ha preso l'endoderma dorsale l'ectoderma si è trasformato in noto corda ok Harry Potter alchimia nel 91% dei casi mentre nello 0% dei casi quando lui ha preso l'endoderma ventrale e sono cellule cicce sembrano uguali però se io prendo quelle cellule cicce che sono cicce come le altre ma le metto con l'endoderma invece quelle non glielo sanno dire come si fa la noto corda non le inducono è figa sta cosa ok sono cellule che probabilmente utilizzano messaggi diversi saranno molecole diverse o chi lo sa adesso ci ragioniamo un attimo e per contro lui che cosa si accorge che le cellule germinali no le cellule del sangue scusate non vengono mai fuori da ricombinazione di tessuto dorsale quindi se tu prendi il tessuto dorsale ok scusate l'endoderma dorsale e gli metti sopra l'animal cap il sangue non lo ottieni mai ottieni un sacco di belle strutture dorsali ecco però lui che cosa si accorge anche che però non è solo noto corda in questi tessuti dorsali in queste ricombinazioni dorsali lui ottiene noto corda ma anche sommiti ma anche pronefro c'è addirittura il dotto di wolf ci sono anche delle cellule germinali qua e là cioè e quindi sì è vero che ci sono alcuni quelli dorsali sono solo lì e quelli ventrali sono invece no in realtà lui dice ecco la sua conclusione scusate è qua aspettate questo ci arrivo no? questo ce lo teniamo lì un attimo allora quindi alla fine il risultato è che esiste una zona di mesoderma dorsale di endoderma dorsale che induce dei segnali che ha dei segnali che inducono il mesoderma a diventare mesoderma dorsale questa zona di endoderma viene chiamata New Coop Center e ci faranno un centro commerciale non so no un centro di ricerca allora non so se esiste il New Coop Center da qualche parte e poi io dico New Coop ma magari è NIEUV Coop comunque andrebbe pronunciato in fiammingo ma non lo so io non so per dirvi come si dice comunque esiste questo centro di segnalazione viene chiamato New Coop Center e evidentemente segnala ecco a questo punto però possiamo chiederci ma c'è una molecola speciale particolare no la organiserina che viene secreta qui e non viene secreta qua allora rispetto a questo problema quindi se c'è una ci sono molecole diverse che specificano questi diversi punti di mesoderma lui non lo può sapere però fa un'osservazione un'osservazione intelligente oddio ecco mentre io sono stato scemo che non ho messo il silenziatore al telefono vedi che io non sarò mai un New Coop Center non andrò mai a lavorare al New Coop Center vedi ok scusate allora e lui fa un'osservazione però che era quella che stavo per farvi prima in effetti però andiamo con ordine aspettate che voglio solo togliere il volume eccolo qua voglio andare con ordine allora questo è sicuro c'è nell'endoderma dorsale un qualche segnale che induce l'organizer ecco però lui che cosa nota che questo mesoderma dorsale se confrontato col mesoderma ventrale sì c'è un effetto qualitativo no quello ventrale tende a avere più cose ventrali e quello dorsale un po' meno però in generale quello dorsale ha più mesoderma lui trova più mesoderma non è solo mesoderma dorsale è proprio ce n'è una quantità maggiore d'accordo qui c'è un sacco di mesoderma e qui trova solo delle schifezzine cioè sì trovo quelli ventrali ma ne trovo anche meno di mesoderma in generale e quindi lui e ve l'ho messo qui l'abstract proprio originale lo dice addirittura nell'abstract sapete cos'è l'abstract in un lavoro scientifico e il riassuntino all'inizio dice ok che cosa ho scoperto e lui mette tutte queste cose da cui verrà fuori il New Coop Center però lui dice già che secondo lui il dorsal l'effetto mesoderma inducing capacity del dorsal rispetto al lateral e ventral endoderm is probably purely quantitative in character cioè lui dice c'è un effetto quantitativo non si aspetta segnali diversi ma si aspetta lo stesso segnale che la parte dorsale ne spara un botto e quindi induce certi tipi di fenotipi mentre andando verso il ventrale questa stessa molecola che non sappiamo che cos'è e questo stesso segnale è invece rilasciato più debolmente ce n'è di meno e quindi induce meno mesoderma ma anche fenotipi diversi cioè lui immagina un gradiente e questa è un'osservazione fantastica e anche un'intuizione fantastica considerato i dati da cui la fa e vi dirò si rivelerà assolutamente vera c'è un gradiente e adesso ve lo mostrerò voilà questo è semplicemente ah sì poi viene fatto anche un esperimento tipo organizer trapiantando il blastomero più dorsale questa è una verifica se tu trapianti il blastomero vegetativo dorsale al posto di un blastomero vegetativo ventrale quel blastomero vegetativo dorsale indurrà in questa porzione ventrale la produzione di un organizer che poi darà origine a un nuovo asse ok quindi funziona funziona non solo nelle sue cose ricombinate nelle sue ricombinazioni in in cultura ma funziona anche in vivo questo effetto ok a questo punto però dobbiamo possiamo ok cominciare a capire qual è la natura molecolare di che poi è stata scoperta dopo di questi effetti quindi che cosa si dicono esattamente quali sono le parole magiche che quello dorsale quello ventrale possono avere è la stessa parola magica o sono parole magiche differenti cioè sono molecole diverse o è la stessa molecola ma in un gradiente allora e per questo però permettetemi un attimo solo di passare dalla visualizzazione degli stadi che avete già in mente spero no dei diversi stadi della gastrulazione quindi questo è l'inizio della gastrulazione giusto lo vedete quando si forma appena appena inizia a formarsi la tasca quando la tasca è completa e si è srotolato tutto l'asse quindi diciamo l'ano è quasi quasi fatto è piccolino c'è ancora il tappo vitellino ma si è molto ridotto fino a quando lo stadio 13 è finita la gastrulazione e inizia a sollevarsi iniziano a sollevarsi le pieghe norali ok quindi da 10 a 13 sono gli stadi cruciali in cui si in cui c'è la gastrulazione allora e a questo punto vorrei farvi vedere appunto l'espressione di alcune molecole alcuni attori fondamentali che sono stati scoperti chiaramente di quello invece su questo vado più veloce non vi racconto come sono stati scoperti allora un elemento importante in effetti è questo VEG-T una molecola famosa chi è VEG-T? in realtà lui è un fattore di trascrizione ma adesso non ci interessa troppo questo guardate un po' dove è espresso attenzione anzi guardiamolo qui questo è di nuovo un è un profilo di espressione dove valutiamo l'espressione del transcritto in TPM sapete cosa sono i TPM? transcript per million no? non avete fatto ancora questo tipo di analisi di espressione genica? non importa non vi preoccupate comunque è una misura relativa ok? è una misura relativa su un milione di trascritti che abbiamo sintetizzato quanti ce n'erano VEG-T ok? è un modo per normalizzare rispetto a quanti trascritti ci sono quanti sono di quel genere allora e qui li vediamo attenzione vedete questa è la zona al 10 guardate qui c'è una piccola crescita e poi scompare ce l'abbiamo fino alla gasturazione e poi va giù quando poi ci sarà la larva più adulta tornerà su però durante lo sviluppo sembrerebbe essere importante proprio in queste fasi prima della gasturazione ma vediamo un po' quanto prima della gasturazione 12 10 8 9 EGG O-O cos'è O-O? chi è che lo immagina? O-O 1 2 O-O 3 4 O-O 5 6 O-O no non è una canzone O-O cavallo O-O ranetta O-O xenopus O-O l'O-O genesi e l'O-O genesi nel senso questo è un fattore materno quindi è una molecola che è messa nel polo vegetativo proprio dall'inizio della produzione delle uova dell'ovocita questo è un fattore materno ed è un fattore materno che specifica il sia l'endoderma che il mesoderma in realtà è importante per entrambi in effetti però tra i geni a valle di questo VEG-T quindi geni controllati da VEG-T ne troviamo un altro che vi cito perché è famosissimo lo so chi di voi andrà a giocare con le cellule in coltura o con le cellule embrionali staminali cercando di farle diventare un tipo piuttosto che un altro potrebbe incappare di nuovo in questa molecola che si chiama SOX17 chi è che riconosce che tessuto è quello qui siamo nella blastula guardate l'ibridazione in situ vedete credo che sia un'ibridazione in situ sì ma l'ho preso da un sito sì sì ok guardate un po' dove sta questa RNA ce n'è ancora poco ma è bellissimo la vedete sta sancratura guardate sto disegno lui sta distinguendo cellule che sono una appiccicata all'altra ma ma alcune sì e subito di fianco non più che cellule sono quelle dai che ce le abbiamo in mente la FATEMAP pensate alla FATEMAP quelle sono cellule del endoderma ok e guardate che bel confine col mesoderma disegnato proprio con la china perfetto in effetti il SOX17 è dalla notte dei tempi sicuramente da quando visitano i vertebrati un fattore di specificazione un master regolatore gene dello differenziamento in senso endodermico quando accendi è tipo Pimaruno o insomma quei geni che quando sono accesi condizionano lo sviluppo della cellula in modo irreversibile SOX17 sarai ciccetta sarai tubo digerente ok avrai un sacco di roba che passa goditela chiaro non è ancora tubo digerente ma è quel programma di genetico che va in quella direzione in modo inevitabile non si scappa ed è evidente che invece queste cellule di fianco non hanno preso quel destino queste cellule di fianco anzi verranno indotte da queste a diventare mesoderma e quali sono le molecole allora c'è stata tutta una caccia alle molecole poi una volta non c'era il trascrittoma si facevano delle library bisognava avere delle idee insomma bisognava essere un po' degli investigatori avere fiuto per trovare le molecole giuste comunque una delle cose che si scopre è che in effetti in questo futuro endoderma sono prodotti un sacco di molecole della famiglia del TGF-beta abbiamo dei segnalatori intracellulari e ce ne sono gli extracellulari dei ligandi TGF-beta chi è che si ricorda un po' che cos'è la famiglia del TGF-beta non so se ve l'ha fatta quest'anno la professoressa ve l'ha raccontata no? sì? forse non importa comunque ve la dico io velocemente si chiama così perché c'è un capostipite che è il TGF-beta e poi da lì sono state trovate tutta una serie di molecole che erano simili che avevano delle somiglianze con questo TGF-beta e per questo la famiglia però tiene il nome del primo diciamo che è stato trovato essenzialmente che era questo TGF-beta e ed è anche più antico forse evolutivamente ma comunque il TGF-beta contiene sono 33 vedete diversi ligandi in realtà ci sono due grosse sottofamiglie in questa famiglia una è quella delle BMP Bone Morphogenetic Proteins e l'altra invece è quella proprio del TGF-beta in effetti voi non sapete niente di questa cosa recettore 1 2 non ancora mi ricordo sapete non ho chiesto Isabel se l'ha fatta ve l'ha fatta la via del TGF-beta no forse aveva fatto il tirosina chinasi perché una volta le faceva ma non importa non è grave non è grave ok allora questa famiglia è una famiglia molto promiscua ci sono un sacco di recettori però capita spesso che i recettori vengono attivati dagli stessi ligandi e la particolarità scusate eccolo qua è che agiscono tutti attraverso gli stessi mediatori intracellulari tada questo è importante con una piccola differenza cioè con una piccola solo distinzione nel senso che la sottofamiglia delle BMP che in realtà ormai viene anche chiamata come famiglia delle BMP è parte della famiglia del TGF beta è una sottofamiglia però è una grande famiglia quindi viene anche chiamata la famiglia delle BMP la famiglia delle BMP segnala attraverso dei mediatori intracellulari che si chiamano SMAD però con queste isoforme che sono la 1 e la 5 SMAD 1 e 5 la famiglia del TGF beta invece anche loro segnalano attraverso queste proteine SMAD che sono però diverse SMAD 2 e 3 e qui vi ho messo molto 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 semplificata la via la via in realtà ci sono due tipi di recettori ci sono i recettori di tipo 1 e i recettori di tipo 2 che sono dei coreceptor sono dei recettori serina treonina chinasi quindi c'è una fosforilazione questa fosforilazione in realtà porterà alla fosforilazione delle proteine SMAD che si associano tra di loro e si associano con un'altra proteina che si chiama SMAD 4 e quando si associano a SMAD 4 questa ve lo sto raccontando ma la vedete lì insomma niente di più di questo si associano a SMAD 4 però a questo punto vanno al nucleo vanno al nucleo a trascrivere una serie di geni in realtà BMP l'abbiamo già incontrato lo sapete? io non ve l'avevo raccontata nel dettaglio così potevo farlo all'epoca in effetti l'abbiamo già incontrato BMP e le BMP sono ve l'avevo detto ai tempi ma se non sapevate chi erano BMP vi sarà uscito entrato e uscito dalla velocità della luce come una freccia ma decapentaplegic spirale di uso ricordate decapentaplegic ecco decapentaplegic è l'omologo delle BMP dell'adrosofila allora TGF quindi TGF BMP scusate ok segnalano in questo modo allora però qual è la cosa interessante e allo stesso tempo problematica che in effetti ci sono una serie di molecole della famiglia del TGF beta in questo endoderma ventrale vedete VG1 Nodal Leactivine il TGF beta stesso e ci sono tutte e noi sappiamo che tutte queste segnalano attraverso dei recettori molto simili spesso comuni e che comunque convergono sulla stessa via di segnalazione intracellulare quindi non mi sentirete mai parlare di uno solo ma li citerò sempre tutti insieme non è detto che non sia uno solo in effetti può essere più attivo o meno attivo perché sono tanti non ve lo so dire esattamente sinceramente non credo neanche si sappia bene ok però ci sono tutti questi fattori che tutto sommato convergono nell'attivare la stessa via e nel momento in cui però tu arrivi a SMAD 2 e 3 SMAD 2 e 3 sono dei fattori di trascrizione o anche dei cofattori e vanno al nucleo negli stessi posti ok attivano gli stessi geni è chiaro quelli sono fattori di trascrizione quando li hai attivati vanno nello stesso posto poi è vero che se li hai attivati di più se li hai attivati di meno c'è tutto ci sono delle quisquiglie ovviamente magari anche rilevanti però per adesso ci accontentiamo di questo qui vi ho messo un pochino più di dettaglio molecolare ma va bene allora però per capire se queste molecole potevano essere effettivamente responsabili di questo evento induttivo ecco che arriva un altro padre della biologia dello sviluppo un altro dei nostri padri come biologi dello sviluppo il signor Gurdon ve lo ricordate? Gurdon quello delle rane che aveva clonato le rane ha vinto il Nobel con Yamanaka ok l'idea di questo esperimento è proprio di testare l'effetto dell'activina sulle cellule lui però è un biologo dello sviluppo e quindi scusate sull'ectoderma quindi abbiamo detto l'animal cap è in grado di ricevere questo messaggio che arriva dall'endoderma e deviare diventare mesoderma allora proviamo a vedere se l'activina è la parola che stavo cercando il messaggio che stavamo cercando qui siamo già negli anni 90 93 94 mi ricordo più esattamente comunque siamo negli anni 90 e quindi si è passato 20 anni d'accordo dall'esperimento qui c'era ballavamo già la dance please don't go don't go adesso c'è la dieta così comunque e viene fatto questo esperimento allora l'idea però è di mimare qualcosa che somiglia insomma mimare un po' dei rapporti tra le cellule e questi ligandi più simile a quello che succede davvero in vivo quindi avrebbe potuto prendere l'animal cap buttare un po' di activina con la pipetta nel brodo di coltura e vedere quanto cosa succedeva però a un certo punto dici vabbè ma quanta ne metto ne metto di più ne metto di meno magari lui li ha fatti anche questi esperimenti però a un certo punto dice proviamo a creare un gradiente pensando all'esperimento dello zio Nieuco che forse era sua nipote perché non so quanti anni a Gurdon era attivo scientificamente prima di Nieuco comunque però forse Nieuco era più vecchio no si era più vecchio allora ma in ogni caso quindi lui che cosa fa prende delle biglie sono delle biglie di agarosio e le intinge nell'activina quindi l'activina si lega a questa rete molecolare che sono delle catene di zuccheri assorbono un sacco di acqua però poi rimangono delle biglie presenti tipo il bubble tea quelle cose lì che andavano di moda sono delle cose solo più piccole d'accordo ma il concetto è quello e se tu le intingi nell'activina l'activina si impregnano di activina e poi però la rilasciano piano piano la rilasciano gradualmente in modo che in effetti si possa creare un gradiente faigata e quindi lui che cosa fa? fa questo esperimento in cui mette vedete biglie con concentrazioni di activina diverse niente ovviamente vediamo se la biglia da sola induce l'ectoderma il mesoderma non si sa mai poteva essere ok? non diamole troppo per scontate queste cose poteva essere per contatto chi lo sa o certi zuccheri ok non succede comunque la biglia da sola non induce il mesoderma quindi ha questo animal cup li mette sopra le biglie se non c'è l'activina non importa qui messe ad una concentrazione uno nanomolare quindi le ho ha fatto le ha intrise non so le ha messe a bagno in una soluzione che aveva activina uno nanomolare mette a bagno le scola un po' e le appoggia su quest'animal cup che succede? ta-da! comincia a vedere l'espressione di un gene lui guarda l'espressione del gene d'accordo? perché lui adesso ha bisogno di vedere quanto in là va l'effetto e quindi non aspetta che le cellule comincino a differenziare poi magari insomma si impasticciano non sa più da dove arrivavano lui cerca solo di vedere l'espressione di geni geni caratteristici del mesoderma e in effetti guardate un po' vede in questo alone ad una certa distanza no? entra una certa distanza dalle sue biglie trova Brachigiuri chi è Brachigiuri? Brachigiuri era un atleta del non so se avete mai visto era un ginnasta italiano era famoso Brachigiuri Yuri Brachigi non l'ho conosciuto vabbè comunque Brachigiuri è questa molecola qua ok questo è la sua pattern di espressione in vivo lo vedete? vi orientate? quello? che cos'è quello? dove è espresso Brachigiuri? pensate a Sox 17 qui è un po' storto per carità è una blastula allo stadio 10 quindi nel momento in cui sta appena appena iniziando la gastrullazione dove è espresso Brachigiuri? nel mesoderma d'accordo? sia dorsale che ventrale siete d'accordo? non fa solo quello dorsale quello dorsale sarebbe questo questo è quello ventrale fa tutta la cintura ok? Brachigiuri Xbra anche detto non so se ci parlano dei reggiseni ma vuoi comprare un Brachigiuri? wow push up e poi gastrull anche no beh in effetti può essere imbarazzante allora comunque Brachigiuri ha questa cintura la fa tutta è chiaro? e lui dove lo trova? in effetti lo trova cioè trova questo Brachigiuri a questo punto che cosa fa? ma proviamo un po' l'idea del nostro amico Newcop che diceva che forse un segnale più forte induce invece le strutture più dorsali e che cosa fa? mette più activina quindi crea una soluzione di 4 nanomolare mette a bagno queste biglie le appoggia sopra a questo animal cup e ta-da non trova solo più Brachigiuri vedete? c'è un anello che arriva un po' più lontano di Brachigiuri mentre lì vicino vicino alle biglie là dove ci possiamo aspettare che la concentrazione di activina sia più alta lui trova Gusecoid e chi è Gusecoid? ve lo faccio vedere qui eccolo qui questa è una stadio 10 sempre una blastula allo stadio 10 guardatelo un po' dove sta Gusecoid normalmente in vivo lo dite forte per favore mesoderma dorsale l'organizer quello è l'organizer quindi lui in effetti aumentando la concentrazione di activina ottiene in vitro l'organizer ehi io so fare l'organizer e chi sei Dio già wow ok e in effetti questo lavoro anzi sono due lavori e sono tutti e due su Nature che è una delle riviste forse più importanti nella biologia sono tutti e due lavori da Nature e tra l'altro lui non guarda solo l'espressione di genere se non sbaglio da qualche parte fa anche l'esperimento di trapiantare poi questo tessuto e ti dimostra che ha un effetto da organizer quindi non solo esprime dei geni di organizer ma si comporta anche da organizer è un vero organizer ok quindi a questo punto abbiamo un concetto fondamentale c'è un gradiente di activina ne ha presa una ma sappiamo che ci sono tanti cuginetti che segnalano per la stessa via intracellulare SMAD 2 e 3 ci sono VG1 c'è Nodal e a questo punto andiamoli a cercare in vivo andiamo a vedere chi c'è chi c'è chi c'è allora chi c'è chi c'è chi c'è è un casino qui vi metto qualche immagine ma è un pasticcio perché di Nodal ce ne sono 15 ok ce ne sono tante qui vi ho messo XNR5 e Nodal 5 qui vedete XNR2 e Nodal 2 e questi però sono espressi molto nel mesoderma e non tanto nell'endoderma e allora ne cerchiamo degli altri ve la faccio veloce questa saltiamo via insomma capire esattamente quali sono i legandi quando vengono espressi quando vengono secreti non lo sappiamo non è chiaro non è non si riesce casino ok però noi sappiamo che cosa causano questi legandi nella cellula ricevente una cellula che ha legato VG1 un qualche Nodal o l'activina sappiamo che dentro di lei succede qualche cosa e quel qualche cosa noi potremmo essere capaci di vederlo vogliamo vederlo voglio vedere se hai ricevuto quel segnale e come faccio a vederlo vedere se quella cellula ha ricevuto quel segnale con l'immunoistochimica come faccio l'abbiamo già fatto ma tante lezioni fa allora recuperiamo le nostre conoscenze quando l'activina lega il suo recettore che cosa succede torniamo qua cosa succede quando l'activina lega il recettore cosa succede dai lega il suo recettore guardate tutti questi o l'ho detto velocemente ma succede che si si fosforila serinatroni anachinasi il recettore si attiva pensiamo che questa cosa dell'attivazione del recettore per fosforilazione ce l'aveste già come concetto però si attiva quando lega il ligando si attiva si fosforila eh peccato adesso arrivava il più bello vi perdete proprio la surprise finale ok si fosforila e a questo punto lega questi mediatori intracellulari SMAD 2 e 3 che vengono fosforilati a loro volta e quando sono fosforilati e legati con SMAD 4 dove vanno quelli? ok quindi abbiamo un modo di vedere se quella cellula ha ricevuto quel segnale con l'immunistochimica dai provate ditemelo un po' cosa cerchiamo? volete un anticorpo contro che cosa? ve lo faccio fare subito guardate chiamo adesso pronto? ho la ditta qua che anticorpo volete? allora tu cosa prendi? salsicce o funghi? ok poi due margherite e poi questo anticorpo cosa prendiamo? SMAD 4 c'è sempre però devi prendere qualche cosa che ti permetta di distinguere chi ha ricevuto il segnale da chi non l'ha ricevuto qualche cosa che è successo in risposta all'arrivo di questo segnale SMAD 2 e 3 fosforilato lo volete? lo prendiamo? d'accordo e poi dove lo andiamo a cercare però con l'immunistochimica? al microscopio andiamo a vedere se sta? eh certo vediamo se abbiamo allora mi porta un po' di SMAD 2 e 3 fosforilato e poi un microscopio che dobbiamo vedere se nel nucleo ok grazie sta arrivando eh sta arrivando allora sta arrivando vediamo eccolo è arrivato ma fantastico l'università di Torino è un ragazzi una cosa pazzesca eh l'efficienza pazzesca di questa università eh complimenti avete scelto bene allora eccoci qua quello è SMAD 2 e 3 questo qui siamo già nel 2000 ok 2001 e in effetti guardate qua eh poi lo vediamo questi mi pare che siano stadi leggermente più avanzati in effetti questo questo SMAD 2 e 3 lo vediamo forte guardatelo lì vedete quei puntini cosa sono quei puntini? gli è venuta la varicella? a questa larmetta? l'abbiamo infettata? no! cosa sono quei puntini? questi dovete fare molta ops scusate molta attenzione a questo piccolo microscopico apparentemente insignificante dettagliuccio quel puntino lì quei puntini sono nuclei sono nuclei marcati di fosfo 2 e 3 ok fosfo 2 e 3 colora questi nuclei e questi sono nuclei dorsali qui è dove inizierà la gastrulation funziona in realtà si puoi vedere intravedere in realtà qui si vede o non si vede è più difficile da vedere ma nel lavoro si dice che c'è e noi gli crediamo e in parte spaziale in parte temporale però un gradiente di SMAD 2 anche nelle porzioni ventrali cioè questo SMAD 2 in realtà tende a digradare ok quindi effettivamente è l'idea che aveva è l'idea che aveva NEOCOP in cui c'è un segnale molto forte che è stata confermata in vitro da Gurdon e a questo punto questo non è tanto ma ci possiamo accontentare come evidenza che quella via in effetti è attivata in modo differenziale cioè è più attiva nel lato dorsale e meno attiva dal lato ventrale questa cosa è poi stata confermata anche con altre evidenze io vi faccio vedere là dove è partito poi chiaramente parte l'idea e ci sono mille altri lavori che cercano di confermarla o confutarla in questo caso questa è confermata l'accendiamo ok quindi c'è un'attivazione questo vuol dire che c'è più nodal c'è più attivina lì dal lato dorsale e ce n'è di meno dal lato ventrale aha e quindi a questo punto questo è il nostro modello no dove ce l'ho no fermiamoci qua per adesso ma che ora è si ce la faccio ancora faccio ancora un pezzetto allora fermiamoci qua attenzione siamo arrivati ad avere un gradiente quindi l'endoderma si comporta in modo diverso quando si polarizza dorso ventrale inizia a comportarsi in modo diverso l'endoderma dorsale spara un sacco di nodal attivina ne sbatte fuori poi tutta la manetta e man mano che andiamo verso il ventrale invece c'è un po' più di pigrizia nel rilasciare sto nodal sì nodal vabbè no 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 ok no no la manetta no no che va sempre più giù è chiaro? ok e questa è la differenza tra l'endoderma dorsale e l'endoderma ventrale ma a questo punto ci dobbiamo chiedere ok ma porca caccia la miseria ma chi è che induce questa differenza? qual è il fattore materno che fa sì che l'endoderma dorsale spari tutto questo nodal e l'endoderma ventrale? c'è un altro elemento che possiamo identificare e questo elemento viene identificato pensate un po' chi si rivede ehi ma dove eri? ciao Kate come stai? sapete chi è questa? l'abbiamo già vista nel riccio di mare? Kateka? Kateka 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 la nostra beta catenina ehi la ma ciao dove eri finita? sempre stata lì ne fai la beta catenina che appunto se andiamo a fare l'anticorpo lo stesso che avevamo già visto nel riccio di mare guardate un po' dal lato ventrale abbiamo sempre la blastula no? possiamo guardare il lato dorsale della blastula o il lato ventrale giusto? che è quel che è un termine di destini soprattutto del mesoderma ma adesso sappiamo anche dell'endoderma se lo guardiamo dal lato ventrale dove sta la marcatura? guardate lì dove sta beta cat? dove sta Kate? qui l'abbiamo colorata di marrone no? con un anticorpo poi c'è un precipitato enzimatico c'è un l'anticorpo attraverso un enzima fa un precipitato insolubile marrone bello che si vede e che ha disegnato che cosa? dove era Kate in questo preparato? dov'è? dai ragazzi guardatelo bene cosa vedete? ditemi solo che cosa vedete forse non vedete chiamiamo un oculista cosa vedete? com'è la marcatura? com'è fatta? ha esagoni? giusto? sembra un alveare? siete d'accordo? si vedono delle righe marroni e cosa saranno mai questi appezzamenti di terra? è un alveare? ci hanno fatto il nido le veste? no! ci hanno rovinato l'esperimento? no! cosa sono quegli esagoni? le cellule sono quella è la superficie delle cellule è la membrana d'accordo? troviamo la beta catenina in membrana ah ma è giusto che sia lì giusto? la beta catenina cosa è in catena? le bici? no! in catena il citoscheletro ha i sistemi di adesione ok? la beta catenina sta in membrana quello è il suo posto naturale evviva! ma invece guardate al polo dorsale ta-da! chi c'è al polo dorsale? dov'è il polo dorsale? dove sta la beta catenina? sta nel nucleo ah ah quindi c'è in effetti un c'è un questo aspettate che qui mi state spiegare il computer non ci avevo fatto caso c'è un gradiente ta-da! di attività della beta catenina che va da dorsale a ventrale la beta catenina è molto forte dal livello dorsale dal lato dorsale e molto più blanda al lato ventrale ah ma vuoi vedere che è quello che causa questa differenza? adesso ci arriviamo ma soprattutto che cos'è che causa a questo punto questo sbilanciamento della beta catenina? vi ricordate nel riccio di mare? avevamo visto chi è che nel riccio di mare causava questo sbilanciamento della beta catenina che veniva stabilizzata al polo vegetativo? in questo caso dovremmo vederla un po' ruotata ma come si chiamava? di Wint? e qual era il fattore materno lasciato dalla madre che condizionava questa stabilizzazione della beta catenina al polo vegetativo? di Discheveld e guarda che si rivede Dische ma come stai? ma guarda un po' lì in sacco non ci vediamo oh Discheveld e lui Discheveld anche nell'embrione di Xenopus milioni di anni dopo di evoluzione di distanza dal riccio di mare le mamme come le mamme dei ricci di mare anche le mamme di Xenopi o di scusate di uffa non mi viene non le rane anfibi grazie ok anche le mamme di anfibi comunque tritoni Xenopi rani e salamandri tutti quelli mettono al fondo delle loro uova un po' di discheveld per il piccolo capito lasciano del discheveld nella porzione al polo vegetativo anche in questo caso nello stesso posto dove lo lasciava la mamma di riccio di mare anche nell'ogenesi delle uova di anfibio abbiamo discheveld sulla parte vegetativa cosa succede però di diverso in queste specie che l'arrivo dello spermatozoo e la rotazione corticale trrrr spostano questo discheveld da un lato da uno dei due lati ok quindi la rotazione corticale sposterà discheveld da quel lato lì si stabilizzerà la beta catenina perché poi discheveld in realtà si porta dietro anche alcuni mRNA di WINT quindi inizia una segnalazione paraclina poi la beta catenina stimola se stessa quindi dove c'è più beta catenina avremo un feedback positivo che stabilizza la beta catenina e si crea un polo un polo stabile voilà a questo punto attenzione che cosa succede qui ci sono due elementi però la beta catenina è attiva guardatela bene però è attiva in tutta la porzione dorsale giusto quindi qui arriva un problema da un lato ci siamo risolti un problema perché è evidente che a questo punto e se andate a vedere vedrete che la beta catenina stimola la produzione di nodal quindi tutto questo nodal in più activin c'è tutta questa massa di segnalazione forte per dare mesoderma dorsale nell'endoderma dorsale è dovuta alla beta catenina quindi la beta catenina stimola la produzione di molecole del TGF beta le pompa le aumenta aumenta la produzione di questi nella porzione dorsale e quindi il segnale di Gurdon e di Neucop lo possiamo spiegare con la beta catenina però a questo punto c'è un altro problema ma la beta catenina però non è solo nel polo vegetativo non è solo nell'endoderma la beta catenina è anche nel mesoderma addirittura nell'ectoderma e lì cosa fa? eh lì non ve lo so dire in realtà posso dirvi eh scusate qua si vede bene no? questo è il lato beta catenina cioè la porzione dorsale ha questa beta catenina stabilizzata tutti ce l'hanno però quindi è un segnale ridondante dice ma non basta la beta catenina dire dorsale autonomamente l'endoderma potrebbe autonomamente diventare dorsale il mesoderma potrebbe autonomamente diventare dorsale e l'ectoderma autonomamente diventare dorsale quindi basterebbe un segnale generico dell'endoderma a dire mesoderma questo poi incrocia la beta catenina e due insieme fanno mesoderma dorsale sì poteva essere ma non è così ok? è chiaro non è così in realtà la beta catenina e qui così ve la butto proprio lì alla veloce la beta catenina ha un effetto attivante sull'organizer d'accordo? quindi il fatto che ci sia la beta catenina stimola comunque l'organizer però evidentemente questo stesso effetto può essere mediato anche solo dall'activina e poi l'activina in realtà stimolerà la beta catenina a sua volta e via siamo di nuovo lì quindi questo potrebbe vagamente confonderci l'idea in realtà questa ridondanza è un meccanismo di robustezza anche la madre deve solo sbilanciare un po' un sistema che poi si autoalimenti beta catenina che stimolerà un po' questi geni però c'è nodal che stimola anche lei la beta catenina e si creerà questo polo di segnalazione scusate e quindi in definitiva questo sì ci siamo perfetti in perfetto orario questo è lo schema su cui volevo lasciarvi un attimo da riflettere se vi torna è chiaro che vedete che è indiretto è tutto un po' indiretto però questo è il nostro modello modello che possiamo assaggiare testare verificare provare andare a mettere in discussione magari scopriremo che c'è qualcosa che non va perché a questo punto per esempio l'ectoderma qui l'ectoderma dorsale e l'ectoderma ventrale sono diversi per l'espressione della beta catenina giusto? in quello dorsale c'è la beta catenina ma allora non potrebbe già avere preso una strada più dorsale perché non la vedo questa strada più dorsale quando lo metto in coltura? chi lo sa in realtà questo la prossima volta lo sveleremo un po' ok? cercheremo di dircelo come mai l'ectoderma avrebbe l'informazione se fosse solo per l'informazione lui potrebbe averlo già l'informazione per diventare nervoso e in realtà vabbè questa è la storia sul perché così se volete ci possiamo ragionare discutere tanto si tratta di elucubrazioni comunque il concetto qual è? abbiamo la beta catenina la beta catenina incrocia un segnale materno che specifica l'endoderma questo endoderma stimolato dalla beta catenina produce un segnale differenziale di nodal activin e altre molecole del TGF beta che inducono questo asse dorsoventrale che inducono il mesoderma però con una diversa commitment dorsoventrale chiaramente qui c'è anche la beta catenina però magari non è più la beta catenina materna per esempio d'accordo cioè la mamma sbilancia questo signaling della beta catenina e quindi tende a pomparlo più da quel lato dopodiché però l'embrione dovrà mantenerlo questo polo e lì c'è l'activina e ci sono tutti questi altri messaggi che manterranno questo polo di questo polo e lo stabilizzeranno è chiaro? in più abbastanza non perfettamente e beh ma comunque è confuso di suo ah scusate wow ho scoperto un altro tasto per caso cascandoci sopra wow allora no in realtà questo è veramente qualcosa su cui riflettere perché il modello è questo me lo potete raccontare nelle risposte all'esame e basta che lo imparate e lo sapete però diciamo c'è un significato profondo e anche una serie di dubbi profondi che nascono da queste cose e che infatti fanno sì che la storia non sia finita qui e magari tra qualche anno io racconterò a chi verrà dopo di voi una storia leggermente diversa ci saranno delle nuove puntate di questa serie ma ve lo garantisco ci sono nuove stagioni che sono lì in preparazione voilà allora questa è la storia qui ci sono alcune cose ecco la prossima volta a questo punto però cercheremo di capire come agisce l'organizer perché ci sono un altro paio di elementi che ci rimangono un po' lì perché in questo signal in questo è determinato questa regione è determinata mentre questa porzione ventrale non lo è giusto perché è determinata solo una delle due perché effettivamente esiste ancora un passaggio chi è che determinerà la determinazione lo vedremo sarà l'effetto dell'organizer l'organizer è in grado di indirizzare le cellule chiudendo questo discorso dell'asse dorso-ventrale e determinandolo però effettivamente serve un secondo step lui ha le idee chiare e lui adesso sarà un nuovo polo di segnalazione in grado di scrivere un nuovo asse dorso-ventrale e quindi anche questo se volete arrivare a step definirlo da una visione un po' più sfocata ad andare metterlo bene a fuoco sì e sì e credo che valga anche il contrario che in qualche modo da questi geni della TGF beta tu puoi arrivare alla beta catenina però in effetti di quello non sono sicuro quindi bisogna bisognerebbe studiarlo più nel dettaglio però noi facciamo siamo solo al secondo anno ragazzi e secondo me siamo già andati molto in là però mi piace questa cosa non vi preoccupate l'esame non andrò così in là a chiedervi però mi sembra giusto cercare di spingervi un po' la scienza è complicata ok non sono quattro cosette da ripetere bisogna pensarci va bene ciao ragazzi